Questo programma è offerto da Tecnocampus. Mercoledì 19 giugno, buongiorno da Teleprima. Benvenuti a questa nostra quotidiana rassegna stampa come ogni mattina offerta da Tecnocampus. Ancora vediamo che i fatti di questa giornata sono tantissimi. Si parte dall'America dove Trump si è rappresentato comunque in forza per quanto riguarda la sua volontà di rimanere ancora Presidente degli Stati Uniti per altri 4 anni. Ma soprattutto dove si è recato Matteo Salvini perché reputa comunque Trump migliore di molti altri diciamo tra virgolette governatori delle loro nazioni. E per quanto riguarda Salvini vediamo ancora gli scontri all'interno del governo. Ma cominciamo subito senza troppe chiacchiere a vedere quelle che sono le notizie dai nostri quotidiani nazionali. E partiamo subito con la Repubblica e parte proprio con questo titolo. Il ricatto americano a Salvini, Trump attacca, Draghi isleane non deve ridurre i tassi. La Casa Bianca gli ha chiesto di completare il gasdotto tappa a tutti i costi ma deve vincere la resistenza di costa. Ministro 5 Stelle e Mattarella dice serve stabilità dei conti. Leader leghista replica sono in disordine per colpa dell'Unione Europea. Tria trovi i soldi per la flat tax. Proprio sulla flat tax è il rimovibile Salvini e si parla appunto di un modo per ridurre le tasse. Questa è la volontà del governo e d'altro canto c'è chi invece dice ci sono i fondi per supportare il taglio delle tasse. Questo è il grande interrogativo che comunque in questi giorni si presenta proprio alle nostre orecchie. Ancora vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano. La rotta del gas per frenare Putin, questo è il retroscena che viene raccontato dalla Repubblica. Intanto un paese senza occidente nell'editoriare di Ezio Mauro. E ancora vediamo che cosa accade. A quanto pare la moneta virtuale diventa sempre più realtà. Questa volta però a lanciarla è il Facebook. Nello stato di Facebook infatti pagheremo in libbre soldi virtuali è quello che viene annunciato proprio da questa prima pagina. E ancora vediamo nella parte centrale Hong Kong. Non sarà mai una città cinese l'esclusiva intervista al leader della protesta. Abbiamo visto centinaia di migliaia di persone per le strade cinesi. Tutti in protesta, protesta pacifica proprio per dire il proprio no. E intanto vediamo ancora nella parte bassa della pagina il nord scopre che aumentano i nuovi poveri. Questi sono i dati dell'Istat che sono stati resi noti e rappresentano appunto una situazione insanabile almeno per quanto riguarda la situazione attuale. E intanto fermato in Francia, emiri e tangenti, il mondiale 2022 travolge anche Michel Platini. E intanto il mondiale delle donne, l'Italia perde ma chiude prima nel girone. E ancora ricordiamo che tra le tante notizie di questa giornata, la notizia che comunque ci fa più rimanere col fiato sospeso, almeno in un certo senso, soprattutto una fascia di persone, ossia i maturandi, quelli che oggi si apprestano a diventare i protagonisti dell'esame di Stato. La maturità 2019, tanto discussa per i cambiamenti che ci sono stati e che da oggi diverranno appunto ufficiali e veri e propri e soprattutto noti per chi fra meno di mezz'ora si troverà proprio a sostenere l'esame. Infatti in maturità 2019, titola così La Repubblica, il giorno della prima prova in 520.000, affrontano le tracce di italiano. Primo esame quest'anno però senza storia e già questo suscita tante polemiche. Si parte alle 8.30 con l'apertura delle buste, con i 7 titoli di quest'anno, 2 di analisi del testo, 3 di tipo argomentativo, 2 di attualità. E' insomma arrivato il giorno della prima prova italiano scritto nel nuovo esame di maturità, notte insonne o meno, tra i ragazzi e i suoi social network, continua a impazzare per le ultime ore il tototracce da Verga a Pirandello, benché con la quasi certezza che si tratti solo di bufale. Un modo per cercare di superare l'ansia da parte dei 520.000 maturandi preoccupati delle novità che dovranno affrontare come cavie di questo esame di Stato, riformato, anche se il dato sugli ammessi è il 96,3%, è il più alto degli ultimi dieci anni. Il trend storico sembra garantire che i bocciati all'esame saranno pochissimi in sistema per calcolare il voto, però da quest'anno è cambiato anch'esso. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie sui quotidiani nazionali e partiamo ancora una volta con un'attestata, quella del Via Solferino Milano, Corriere della Sera, e parte anche questo quotidiano su Trump, ora attacca l'Europa, Conte subiamo la guerra dei nazi e sui minibotte scontro Salvini e Trial, vicepremier senza alternative si fanno. E ancora Draghi apre a nuovi aiuti per l'economia dell'Unione Europea, il Presidente USA, concorrenza sleale. E intanto vediamo Donald e Matteo, nozze di interesse, questo tutto raccontato in quelle che sono le strategie incrociate di questa mattina. E intanto una via d'uscita viene definita da Polito nel suo editoriale, mentre vediamo un caso in Mondiale in Qatar, Platini fermato, l'accusa è corruzione. Nella parte centrale della pagina ancora tante polemiche per i navigator, giovani docenti e pensionati, le storie di chi ha sostenuto la prova. Al concorso, pensate un po', si sono presentati solamente uno su tre. E già questo suscita il divario più incredibile per una possibilità lavorativa che effettivamente è risultata per il momento molto molto vaga. E ancora vediamo Merkel colta da tremore, paura durante la parata, una tanta paura per lei, adesso si attende. Ancora finti medici e pazienti, furti facili in ospedale, scatta l'inchiesta e ancora una volta si parla proprio della sanità e dei problemi che essa sta vivendo. Ma ancora vediamo la verità, in questa mattinata che cosa ci presenta? C'è anche un giudice che non coccola le ONG. Un punto nella lotta all'invasione, il TAR respinge il ricorso della Sea-Watch contro il decreto sicurezza bis. La nave carica di migranti non può entrare in acque italiane, chiusa i porti, resta il nodo dei clandestini rispediti qui dal nord Europa, quelli per i quali il PD diceva che non dovevamo preoccuparci. E intanto vediamo la bufera sul CSM. Il consigliere Griglino dissero di votare viola mentre era a Catanzaro con buona fede in morra. E intanto nella parte centrale Platini fermato, corruzione per i mondiali in Qatar. E intanto nella parte centrale vediamo lo scontro aperto, Draghi raffredda lo spread e intanto scalda Trump. Il governatore della BCE vuol tagliare i tassi per sostenere l'economia, il presidente USA parte all'attacco, così svaluta l'euro e intanto ci danneggia. Salvini e il ministro Tria litigano ancora una volta sui mini bot. E ancora vediamo l'inchiesta di panorama, i bancarottieri che escono quasi indenni da ogni processo, mentre negli ospedali medicino specialisti fuoco di fila anti-decreto. E nella parte bassa della pagina Repubblica si indigna per la catenina di una conduttrice del Tg2. Il prossimo reato? Mostrare il crocifisso in tv. Insomma sembra che tutto diventi ragione per polemizzare su qualsiasi cosa. Ma continuiamo a vedere ancora le notizie di questa mattina, ci spostiamo adesso sul Fatto Quotidiano e partiamo proprio dall'alto e vediamo che Draghi dice che la BCE è pronta a tagliare di nuovo i tassi e Trump lo attacca, così penalizza le imprese USA. Certe armi monetarie può usarle soltanto lui, mentre in apertura di pagina stipendi, quelli italiani, pensate un po', tra i più bassi d'Europa. Barricate contro salario minimo, i lavoratori è meglio non pagarli. E ovviamente, infatti dall'Ocse a Confindustria, dal PD ai sindacati fino alla Lega, l'obiettivo è cancellare i 9 euro all'ora. Il Movimento 5 Stelle ha cerchiato da chi non vuole la misura che metterebbe più soldi nelle tasche del lavoro dipendente. E intanto navigator sabotati dai governatori è la prima flat tax che, secondo questo quotidiano, ha favorito i ricchi. E intanto nella parte centrale, Salvini, occhio Trump, ascolta soltanto Trump. E intanto nella parte centrale, altro che minibot, ora Facebook farà da banca con la sua moneta. Il social, infatti, arruola gli istituti di credito per creare un sistema finanziario parallelo. Su ogni transazione ci saranno delle commissioni, si apre un nuovo business miliardario per Mark Zuckerberg che promette di usare la tecnologia della blockchain per rendere tutte le transazioni tracciabili. E intanto Bugani di Battista è il nostro bomber, da voce a tanti di Movimento 5 Stelle. E l'ex leader dei DEM adesso si esprime, stiamo parlando di Bersani, tra un po' Zingaretti si scuserà con lotti per il CSM. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie, ci spostiamo adesso su un altro quotidiano, vediamo Libero, altro che poveri sono ladri. 30 milioni di italiani non pagano mai le tasse. I conti non tornano, la metà del paese dichiara, e attenzione al verbo dichiara, di non guadagnare nulla. Però, attenzione, sempre secondo questo quotidiano, spende esattamente come gli altri delle due. L'una non può sussistere, ovviamente, se non ci sono i soldi guadagnati. Di conseguenza, come si possono spendere? Si chiede appunto il quotidiano libro. E ancora vediamo Andrea Camilleri, marxista impenitente, nell'editoriale di Feltri, pur grande scrittore, ancora critica la situazione di Camilleri, ma si continua ad attendere. Intanto, nella parte centrale, mazzette per il Mondiale, autogol di Platini. Finisce nel resto l'ex campione della Juventus, accusato di corruzione. E ancora vediamo, nella parte centrale della pagina, purtroppo una brutta notizia che arriva da Genova, dal Ponte Morandi, Cosche e Casca, anche la Camorra e i cantieri in mano ai clan. E intanto la Merkel non sta bene, ma non ci dicono perché, ma loro durante la manifestazione, la giornata di ieri, è ancora tutto in tenuto segreto. E ancora ha combinato solo guai Luigi Di Maio e il ministro del Lavoro Nero. E nella parte bassa della pagina, ieri funerali del regista a Firenze, il ritratto più autentico di Franco Zeffirelli, proprio in questa pagina. E ancora vediamo sugli altri quotidiani quelli che sono i titoli in primo piano. Mossa anti-Trump, Draghi apre la borsa, pioggia di soldi. La BCE comprerà altri titoli di Stato per salvare l'economia e Salvini scarica tri e snobba l'Europa. Mentre Zuckerberg batte moneta, nasce così l'impero Facebook. La valuta si chiama Libra e sfida il dollaro. Ancora delirio 5 stelle, causa la prima dei Navigator, reddito a Roma, i spacciatori. E oggi i nuovi esami, i veri maturi sono i prof in fuga dalla scuola. Anche questo è un titolo che sicuramente aprirà tante polemiche. E intanto vediamo il cantante si confessa sui social. Stiamo parlando di Fedez che in un post annuncia una paura che gli è arrivata in merito alla sua salute. E da questo ha raccontato proprio come comportarsi nella vita semplicemente perché ha ricevuto questo scossone. Infatti se Fedez scopre per paura che il denaro non è tutto. Ed è proprio questo che racconta nella vita. Non tutto è importante se non la salute. E ancora vediamo l'onestà di ammettere l'insuccesso la rovesciata del mediano Liga Bue. E infatti nella gara chi la spara più grossa ogni tanto vince chi la spara giusta. Liga Bue che ha appena iniziato il tour ha ammesso che l'affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni. Per carità bastava vedere le foto del suo debutto a Bari per capire che gli spazi vuoti erano molti. Di solito però e fateci caso gli artisti sbianchettano dai social defiance gli inceppi le frenate perché tutto deve brillare come se fosse oro zecchino. E invece in realtà proprio Liga Bue ha ammesso che l'ultimo tour non sta rispotendo il successo desiderato. Ed è il momento di fare qualcosa per cambiare questa tendenza. Ma ancora vediamo le altre prime pagine il tempo dentro Totti via chi lo ha umiliato così valanga di messaggi di Romani in redazione il divorzio non va giù pallotta chieda scusa a Francesco e gli stenda un tappeto d'oro. E ancora vediamo nella parte centrale Draghi accende il bazooka e Trump si arrabbia sleale il presidente della BCE pronti a riacquistare i titoli di Stato. Mentre per lo sport un rigore dubbio piega le azzurre ma il KO con il Brasile non fa male il modiale di calcio femminile l'Italia vince comunque il suo girone. E nella parte bassa della pagina ancora una volta si parla delle scale cosiddette ormai immobili della metro di Roma. Record di guasti, 80 impianti di risalita fuori uso e appunto questo rappresenta uno specchio di quella che è una realtà sempre più ferma e sempre più incapace di autogestirsi. Ancora vediamo il mattino nella parte alta il cartellone 2019 dai classici alla danza il teatro che accende l'estate di Pompei. Mentre in un'intervista De Giovanni dice il mio maestro Camilleri scrittore per il popolo. In apertura di pagina, monete, tensione Unione Europea USA e Facebook sfida il mondo. Draghi, possibile un taglio dei tassi? Trump così colpisce il dollaro. Mentre Zuckerberg lancia la criptovaluta sui cellulari per pagare qualsiasi bene. Infatti Mario Draghi propone nuove misure monetarie per contrastare i contrattacchi della guerra commerciale USA. Possibile un taglio dei tassi? Ma Trump attacca il presidente della BCE e dice così colpisce il dollaro. Intanto Zuckerberg sfida il mondo. Facebook lancerà già nel 2020 libera la criptovaluta sui cellulari per ogni acquisto. Mentre ieri Conte è stato a Napoli. Ho chiesto ai ministri di investire di più al sud. Un piano per il sud perché se non riparte non riparte l'Italia. Ripete più volte il premier Giuseppe Conte. Durante la sua giornata napoletana il premier tocca anche il caso della Whirlpool. Il manager di Remo che a Napoli è anche la città dell'Apple Academy. E questo è il punto importante sul quale ha abbattuto proprio il premier. E ancora lo scontro. Il monito dal Colle sui conti. Salvini il debito colpa dell'Unione Europea. E sfida Tria. Tasse giù oppure si va via. Monito appunto del Colle a tutela della solidità dei conti. Ma Salvini il debito dice colpa dell'Unione Europea. E intanto l'inchiesta del mattino partecipate il Pozzo Nero del Comune di Napoli. E infatti dalla Napoli Servizi all'ANM le società partecipate costituiscono ancora una fonte di sofferenza per le casse comunali a fronte di servizi spesso carenti o talvolta largamente insufficienti. Le partecipate, spiega il fiscalista Giuseppe Pedersoli, ex difensore civico del Comune, sono sempre state utilizzate negli anni scorsi per assumere delle persone. Naturalmente, mi riferisco, tutti gli enti locali. E intanto nell'editoriale, vediamo nella parte sinistra della pagina, l'analisi, lega e governo, le conseguenze della sterzata fino americana. Perché ovviamente questo passaggio e questo cambio di rotta ha tantissime e avrà tantissime conseguenze. E intanto nella parte centrale vediamo anche su questo quotidiano l'attenzione e il focus sull'inchiesta mondiale 2022, l'intreccio FIFA-Sarkozy, Platini fermato per corruzione, ma il Catarra è padrone del calcio. E intanto il calcio mercato continua, il talento colombiano vuole l'azzurro, stiamo parlando di James a un passo da Napoli, tutti segreti della trattativa. Ed infine si parla anche nella parte bassa di CSM, ora Palamara rischia il posto e anche lo stipendio. E questa è la richiesta del PG di Cassazione. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina da Il Manifesto. e si parte proprio dall'articolo di apertura, bot da Orbi. E infatti è un vero e proprio scontro di tutti contro tutti, come diciamo ogni mattina perché ormai è questo a cui siamo arrivati, pericolosi, illegali e non necessari. Tria mette all'indice i minibot e Salvini, l'americano, a testa bassa attacca. Sono nel contratto, si fanno, Di Maio si adegua, nello scontro anche la flat tax alla vigilia della lettera all'Unione Europea. Oggi vertice con Conte, poi l'incontro al Colle. E intanto nella parte bassa della pagina, la carica dei navigator a termine al Via Roma. Il concorsone per circa 3.000 cerca lavoro, molti selezionati non si presentano. E ovviamente questo è un concorsone che durerà fino a domani giovedì, però già ha suscitato una valanga di polemiche. E intanto anche da questa prima pagina del manifesto, una libra di potere parallelo, la criptomoneta di Facebook. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, vediamo che cosa ci racconta questa mattina il dubbio. E vediamo in apertura di pagina le intercettazioni, si decide. Il CNF e Libertà si gognano, il guardasigilli convoca il tavolo con avvocatura e giornalisti. E intanto Trump contro Draghi, quattro cantoni e la botola. E infatti le coincidenze, si sa, appassionano sia che si dimostrino combinazioni del caso, sia più frequentemente che obbediscano a regie inconsapevoli e tuttavia illuminanti. A qualunque categoria appartengano, quelle che si sono manifestate ieri provocano un senso di stordimento. Infatti all'interno di un brevissimo lasso di tempo, accade che il capo dello Stato invia un saluto all'Assemblea di Confartigianato, ribadendo la necessità di tenere i conti in ordine. E subito dopo, di fronte alla medesima platea, il vicepremio Matteo Salvini lo ignori, affermando che la colpa dei nuvoloni neri sull'economia italiana è dell'austerity dell'Unione Europea, che bisogna procedere a tappe forzate sulla flat tax, poco importa se in deficit, perché è la vera priorità. E la domanda che comunque si pongono proprio da questo quotidiano è chiaro, tutto chiaro. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina Draghi, per stimolare la crescita, abbassare i tassi. E Trump ovviamente si infuria. E ancora vediamo nella parte destra, i ribaltoni, ora che Matteo si stringe a Donald e addio Eurasia. Ancora continuiamo a vedere le notizie dalle prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso sulla parte sportiva e andiamo a vedere il Corriere dello Sport. Prime donne e il bello dell'Italia mondiale. L'Italia sconfitta dal Brasile con un rigore contestato 0-1, ma passa come prima nel girone, negli ottavi, forse con la Cina. E intanto l'Under 21 si gioca anche Tokyo e nella parte centrale James Napoli è fatta dalla Colombia via libera al prestito. C'è l'ok dal fantasista del Real al trasferimento in azzurro, un affare da oltre 100 milioni, della Perez trattativa nel vivo. E intanto nella parte bassa Rabiotta ha un passo dalla Juve, la mamma agente ha detto sì. E ancora vediamo Totti e la bugia dell'infanzia, mentre Baldissoni senza stadio pallotta via. Continuiamo ancora a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, col quotidiano sportivo vediamo l'Italia battuta dal Brasile, passa però il turno come prima. E vediamo un'immagine che dice tutto. E intanto continuiamo a vedere le prime donne, mentre gli azzurrini sono pronti a giocare, regalateci un'altra notte magica. Bologna alle 21 con la Polonia. E infatti stasera la grande sfida. Ancora nella parte bassa, affari nerazzurri, Barella, Lazzaro e Zeco. L'Inter prepara tre regali per Mister Conte, braccio di ferro con i cardi, intanto continua. E ancora per il calciomercato, doppio colpo per l'Atalanta, Muriel e Verdi, idea di Rajkovic per il Brescia. E mentre per il basket, Accantù inizia l'era Pancotto, tanto lavoro e i piedi per terra. Oggi l'Olimpia presenta Messina. E ancora vediamo quelle che sono le notizie in primo piano. Vediamo proprio questa notizia della partita ieri mondiale femminile Italia-Brasile 0-1. Azzurre capò, ma gli ottavi da prime. E infatti vediamo che le ragazze di Milena Bertolini incassano la prima sconfitta nella rassegna iridata. Gol di Marta su rigore, ma grazie alla migliore differenza reti rispetto al verde oro e all'Australia, chiudono in testa il gruppo C. martedì prossimo affronteranno una riperscata per un posto tra le migliori otte. Insomma, una vera e propria missione compiuta che porta queste ragazze ancora avanti nel mondiale e comunque tiene alta la nostra Italia. E per quanto riguarda la rassegna stampa siamo arrivati alla fine della prima parte, ma non alla fine della rassegna stampa. Quindi facciamo qualche momento di pubblicità, ma attenzione perché ritorniamo subito dopo, quindi non andate via. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C. L'Università di Caserta è il futuro e nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente alla 30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, con zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, siamo pronti ancora una volta per affrontare quelle che sono le notizie della giornata, questa volta però partendo dai quotidiani online e esaminando tutte le notizie della regione Campania e passiamo subito con la Repubblica a vedere che cosa accade in questa giornata, soprattutto perché è ancora viva la presenza dell'amica geniale tra le strade napoletane dove ancora si sta girando il sequel di quello che è stato il primo capitolo proprio rappresentato nell'anno scorso. Infatti, mestieri e abiti del passato, Ischia si fa bella con l'amica geniale. Vediamo qualche immagine giusto per rinfrancarci lo spirito in questa giornata. Ed eccoci qua, vediamo proprio i mestieri ma soprattutto gli abiti di una volta, gli strumenti, tutto ciò che un tempo veniva considerato importante e che adesso, lo vediamo proprio nelle immagini, troppo spesso viene o repertato come antico, diciamo così vecchio, ma anche molto spesso come inutile. E ancora vediamo proprio i vecchi mezzi di trasporto, ovviamente ancora usati, ma sempre sempre in ultimo piano. Infatti muli e cassette di ortaggi dai colori vivacissimi, pesce azzurro rigorosamente fresco, il confuso vociale di un mercato, cosa che troppo spesso sembra essere passata in secondo piano. E sembra proprio questo che adesso l'amica geniale vuole far rivivere nelle sue scene per appunto per il suo attesissimo capitolo che rappresenta appunto il secondo libro. E intanto vediamo ancora una volta dalla Repubblica quelle che sono le notizie che riguardano la giornata di oggi. Ormai ci siamo, mancano pochissimi minuti alle 8.30, maturità alla carica dei ragazzi del 2000 in Campania, in 50.000 la prima prova senza web, oggi l'esame di italiano con l'estrazione a sorte dell'argomento da parte del candidato, l'incubo del toto tracce. E insomma, continuiamo a vedere ancora le altre notizie e ancora parleremo di maturità. E intanto vediamo che una buona notizia per i tanti appassionati, Tiziano Ferro tra un anno in concerto al San Paolo, ringrazio Napoli per avermi concesso lo stadio e dice proprio il cantante non vedo l'ora. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, una bitus 2 con gli abiti degli studenti dell'Accademia creati con i tessuti in esubero della Sartoria del San Carlo. E questa è un'immagine eloquente che parla ancora di una Napoli che non vuole tacere ma vuole rappresentare proprio la sua capacità creativa di inventiva e soprattutto di far parlare di sé. Ed ecco di qua, li vediamo proprio tutti questi abiti che comunque parleranno di Napoli nel mondo. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano perché dobbiamo anche parlare di fatti di cronaca. Ancora una volta un agguato in centro storico a Napoli, due i feriti. E ancora un agguato nel centro storico, due persone sono state ferite a colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Forcella, tra Vico della Pace e Vico in Santa Maria, Ante Saecula. Sul posto è intervenuta la polizia personale e medico che ha trasportato i due feriti in ospedale. Quello più grave è stato condotto a Loreto Mare, l'altro a San Giovanni Bosco e entrambi sono di nazionalità bulgara. E ancora vediamo da Napoli quali sono gli altri fatti. Ieri, nella giornata di ieri appunto, il premier Conte è stato a Napoli e tra le altre cose si è dilettato proprio nell'arte più antica e tipica dei napoletani qual è quella di fare la pizza, proprio messo mano all'impasto e si è preparato la pizza da sola proprio col metodo dello schiaffo. E lo vediamo in questo video. Pausa pranzo nello storico locale di Gino Sorbillo per Giuseppe Conte. Conte, durante la visita a Napoli, il presidente del consiglio si è cimentato nella preparazione della pizza mentre i curiosi e i fotorografi immortalavano proprio la scena. Poi Conte ha caricato il video sul proprio profilo social e ha detto posso mettere poco olio sulla dieta, ha detto il premier che è stato guidato nella lavorazione dell'impasto secondo il metodo cosiddetto dello schiaffo. Ed eccolo qua proprio in attività. Ma ancora continuiamo a vedere gli altri fatti di questa mattina tutti quelli che troviamo appunto sui quotidiani online e che rappresentano quelle che sono le caratteristiche di questa giornata. Difendiamo il sud, la Costituzione e i diritti contro la nuova destra. L'appello di Luciano Stella tra i promotori del movimento Prima le persone. C'è un concetto che attraverso e caratterizza tutte le diverse fasi del percorso Prima le persone ed è quello della rete orizzontale. Siamo stati orizzontali nel tentativo di riaprire l'orizzonte di uno spazio democratico. Questo è appunto il modo attraverso cui descrivono questa loro volontà. E ancora vediamo una notizia che sicuramente farà discutere la bambina contro le barriere architettoniche. Ci mancate di rispetto ogni giorno, usate il cervello e quando lo dice una bambina forse qualcuno potrebbe ascoltare. Almeno noi ci auguriamo che questo accada visto che comunque le barriere architettoniche rappresentano un vincolo proprio alla vita, alla vita stessa. Ciao a tutti, dice la bambina, oggi voglio fare un appello per tutti quelli che non hanno l'uso delle gambe ma sono su una sedia a rotelle. Comincia così il video di Elena, la bimba di 9 anni che vive in provincia di Napoli, a Nola, e chiede più rispetto per i disabili. Dovete avere più civiltà, rispetto, educazione. Ci mancate di rispetto ogni giorno, continua Elena. Fatevene una ragione, noi esistiamo. Lotterò ogni giorno per dire no a marciapiedi senza scivoli, occupati da biciclette, scooter, auto e tavolini. Dico no alle barriere architettoniche, sì alla libertà di tutti. Il filmato è stato pubblicato dalla madre Pina sui social e è diventato virale. Il neosindaco della cittadina Gaetano Minieri ha voluto incontrare la piccola per ascoltarne le istanze. Ci auguriamo che tutto questo renda possibile l'ascolto appunto di una bimba che manifesta proprio il disagio di tante persone che non hanno la possibilità di essere liberi. in questo nostro 2019 in cui tutti ci diciamo in realtà liberi di fare quel che vogliamo, ma così non è. Ancora vediamo le altre notizie. Ci spostiamo sul mattino. Riviera è Palazzo Crollato che riapre dopo sei anni, ma Chiaia intanto muore. Bentornato Palazzo Guevara è il caso di dirlo. Oltre sei anni dal crollo che poche ore prima che bruciasse Città della Scienza sconvolse la città in quel nerissimo 4 marzo partenopeo del 2013. Alla riviera di Chiaia finalmente sono andati via i ponteggi. La facciata ritrovata è bella, bianca, nuova, luminosa e decorata. Anche se la parte laterale di Palazzo Guevara, quella che dà su via Arcomirelli, è ancora intrappolata dai tubi. Anche se il palazzo a tre passi mette in bella mostra le retine di contenimento. Anche se le attività commerciali, soffocati da anni di cantieri della metropolitana, cantieri post-crolli e cantieri di rifacimento del manto stradale, sono con l'acqua alla gola. Insomma, i due lati, le due facce della medesima Napoli. Da un lato un palazzo restaurato che fa bella mostra di sé, dall'altro lato tutto il degrado che ancora una volta si manifesta sempre più evidente. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da Il Mattino. L'annuncio, l'Eppol, resta a Napoli prorogati i corsi per altri due anni. Per oltre un'ora il Premier Conte si è immerso nella realtà dell'Accademy della FI, Federico II, prima è stato accolto dall'amministratore delegato di Cisco Italia, Agostino Santoni, che gli ha illustrato per filo e per segno cosa sta avvenendo fuori da questi mesi di studio tra i palazzi di vetro e acciaio di San Giovanni a Teduccio, tra cui il loro network mondiale sulla cyber security. Poi ha potuto ascoltare gli specchi di alcuni neodiplomati all'Eppol Academy, che gli hanno spiegato le loro app. E ha mirato Conte nell'aula magna del polo tecnologico universitario esterno l'immenso piacere di incontrare questi giovani appassionati e determinati e assistere alla presentazione di alcuni progetti davvero innovativi. Buone notizie anche per questa Academy che adesso è praticamente cuore di Napoli e che continuerà ancora per due anni a far parlare di sé proprio nelle vie napoletane. E ancora si parla di eventi tutti napoletani, tutti in attesa per venerdì per l'arrivo del Pontefice, ecco il dispositivo di traffico, alcune strade saranno comunque chiuse. E infatti divieto di sosta con rimozione è coatta e fermata dalle 20 di giovedì 20 giugno e fino a cessate emergenze di venerdì 21 giugno. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati dal mattino in questa giornata. I bilanci dell'era De Magistris a quanto pare sono proprio scarsi. In cassi flop, più debiti e spese. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli dal giugno del 2011, come ebbe modo di sottolineare egli stesso, non appena fu noto l'esito delle elezioni che ne sancirono l'ascesa. Ha potuto in questi anni avvantaggiarsi di un mandato popolare fortissimo, travalicante il sostegno delle forze che l'appoggiarono. Tale circostanza potrebbe peraltro non aver giovato alla sua causa, generando l'equivoco che una vittoria così larga potesse consentirgli il governo in solitaria. E a quanto pare questo governo non ha dato i frutti sperati. Ma ancora vediamo gli altri fatti raccontati da Napoli Today. Si parla anche su questa testata degli esami di maturità, prima prova esame di Stato al Via per 38.000 studenti napoletani. Wifi bloccato dal Ministero e apprezzione per le nuove modalità di esame, con il consueto tototracce e favoriti Leopardi, Pirandello e Primo Levi. E infatti vediamo che sono circa 38.000 i maturandi tra Napoli e provincia e l'appuntamento di stamane per i ragazzi nati per lo più nel 2000 è come sempre con la prima prova di italiana. La consuetudine quest'anno è però spezzata dalle nuove modalità di esame, a partire dall'abolizione del saggio breve per la prova di oggi, passando da una seconda prova che verterà su due materie fino a un colloquio orale senza tesina, ma con l'argomento di partenza e estratto a sorte. Insomma, tante novità, ma soprattutto ancora tanto timore. E intanto ancora la cronaca, terrore a forcella, questa volta per spari strada, ferite due persone trasportate a San Giovanni Bosco a Loreto Mare, non ancora note le loro condizioni nella dinamica di quanto in realtà avvenuto. E ancora passiamo agli altri fatti, l'ultimo messaggio audio dell'insegnante suicida, magari ci rivedremo ancora. Il docente di matematica si è tolto la vita dopo essere stato accusato da un genitore di un'alunna di abusi sessuali sulla figlia. E infatti non ha retto al peso dell'accusa e di abusi sessuali da parte dei genitori di una delle sue alunne, il docente di Gian Battista Vico, che si è tolto la vita con un colpo di pistola invitato alla cena di fine anno dei ragazzi della seconda D. Il professore di matematica del liceo aveva lasciato un messaggio audio WhatsApp come riporta a DN Cronos attraverso il rappresentante di classe durante un incontro avvenuto in via Scarlatti una decina di giorni fa. Non si trattava però di un messaggio di addio che lasciasse presagire la tragedia imminente. Infatti ha detto ragazzi vi saluto tutti, vi auguro tutto il bene possibile, chissà magari ci rivediamo ancora. Vi mando un abbraccio forte forte, anzi di più stritolante, tutti uno ad uno e vi auguro il meglio. E insomma ancora tante domande per questa vicenda e soprattutto tanti interrogativi e punti sospesi che lasciano presagire qualcosa che ancora non si sa. E ci spostiamo adesso su Caserta News dove andiamo a vedere proprio i fatti raccontati da questa testata e partiamo ancora una volta da quella che è la vicenda del prete di Casa Pesenna. Questa volta la 14enne accusa mi hanno costretta ad andare da Don Michele. La vittima delle violenze dell'ex prete racconta a questo punto il suo calvario ai giudici. Non volevo andarci da Don Michele ma sono stata costritta. Lo ha detto più e più volte la ragazzina appena 14enne di Maddaloni che ha subito le percoste dell'ex prete durante riti esorcistici dal sapore medievale. La 14enne nella mattinata di ieri si è presentata nel tribunale per raccontare in prima persona le violenze subite da parte dell'ex sacerdote del tempio di Casa Pesenna accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ragazzina oltre che di violenza sessuale nei confronti di altri due seguaci del gruppo di preghiera. Un'udienza lunga durata circa 7 ore con diverse interruzioni anche per il caldo celebrata nell'aula protetta a secondo piano del Palazzo di Giustizia del Tribunale di Santa Maria Capovetre. E ancora vediamo proprio la prima pagina di Caserta News. Boss venduto in carcere ed ucciso, condannati belforte ma anche il suo sicario. E intanto i rifiuti e le plastiche ancora una volta in fiamme. Centinaia di cittadini barricati in casa. Vediamo questo dove avviene e vediamo proprio che ancora una volta l'aria è irrespirabile soprattutto con la calura estiva. Rimanere proprio chiusi in casa diventa sempre più complicato. Una puzza insopportabile che ha invaso l'agroversano e l'aria nord della provincia di Napoli è l'effetto provocato da una serie di roghi di rifiuti e materiale plastico appiccati in località Casacelle tra Parete e Giuliano in Campania. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco oltre al sindaco di Parete Gino Pellegrino e la locale protezione civile. Insomma ancora una volta sembra che i rifiuti diventino oggetto proprio del ricatto di qualcuno. Una situazione insostenibile che noi ci auguriamo prima o poi e dico prima o poi sarebbe meglio prima verrà scoperta e soprattutto posta a termine. E per quanto riguarda la rassegna stampa anche questa mattina termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. Prima di lasciarvi voglio fare un in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi affronteranno la maturità a voi tutti l'augurio che questo sia un primo passo ma soprattutto che non sia l'ultimo perché ovviamente nella vita tutto diventa un trampolino di lancio per vivere sempre meglio. E ancora una volta ringrazio Tecno Campus che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione e farla in maniera commentata e soprattutto a voi l'augurio di una splendida giornata e come sempre ci vediamo domani. Questo programma è stato offerto da Tecno Campus Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori